Buonasera e benvenuti qui nella nostra rubrica Geeks for Blockchain, la nostra rubrica bisettimanale che si tiene direttamente dalla sede di Geeks Academy il martedì e il giovedì a partite dalle 18. Siamo sempre pronti per trattare i temi caldi del mondo crypto, quindi crypto valute, blockchain, smart contract, come questi vengono applicati nel mondo e come soprattutto avranno impatto nel tutto quello che è il settore sia lavorativo e non. Bene, oggi abbiamo intenzione di parlarvi di un tema fresco, settimana scorsa Mark Zuckerberg ha fatto il suo grande annuncio e l'ho fatto in Connect che è praticamente stato un evento a cui ha partecipato e c'è stato il rebranding quindi del grande colosso americano, del grande social americano da Facebook a Meta. Meta il che è un tutto dire su quello che già anche abbiamo trattato in precedenza il nome lascia alludere le stesse dichiarazioni di Zuckerberg e lo confermano che l'esplosione del metaverso non è così distante, così come sembra. Vi do un po' di notizie perché noi abbiamo iniziato a parlare del metaverso e soprattutto di Facebook attraverso il grande scandalo che che ci fu con Cambridge Analytica abbiamo fatto questo confronto tra il sistema centralizzato e quello che poi è l'effettiva decentralizzazione. E Facebook secondo me a mio avviso sta facendo un grande passo perché partire da un sistema che comunque ha avuto tutte le sue problematiche in questo caso è stato accusato di manipolazione dei dati, anche sfruttamento illecito di dati e proporre un progetto che sia decentralizzato e che sia perché poi dietro a Meta ci sta una DAO, bisogna dirlo, la società che fa il rebrand andrà poi a gestire tutto quello che è l'apparato di Oculus, di Facebook, dello stesso Facebook, quindi di Instagram e WhatsApp e andrà tramite Horizon a costituire questo metaverso in maniera anche autonoma. Infatti le varie compagnie si gestiscono in maniera autonoma se non lo sappiate, i vari team di sviluppo non si confrontano fra di loro. E tra l'altro bisognerà anche dire che ci sono un sacco di competitors adesso, tra le grandi multinazionali ci sono un sacco di competitors che sono pronti ad accaparrarsi poi quello che sarà il punto di slancio di tutto il metaverso, quindi stiamo parlando di grandi compagnie come Nvidia, come Epic Games, come Roblox, quindi grandi compagnie che tuttavia non vogliono rimanere in dirlo anche dal punto di vista del gaming. Epic Games ad esempio con il suo Fortnite ha già dato un'anticipazione di quello che potrebbe essere il metaverso in futuro. Infatti se non sapete Fortnite è un gioco in cui tu hai questo avatar e l'avatar ovviamente ha questo open world e praticamente è un battle royale. Quindi lo scopo di questo battle royale è combattere contro altre persone e sostanzialmente vince chi sopravvive all'orda di tutti gli altri concorrenti. Tuttavia all'interno dello stesso battle royale ci sono altre funzionalità, altre funzionalità ad esempio di costruire edifici, costruire degli ambienti di lavoro. Un giocatore ad esempio ha costruito un pianoforte, quindi aveva dei tasselli e questi tasselli riproducevano un suono diverso e in base all'ordine dei tasselli che premeva componeva una melodia. Quindi c'è anche una possibilità di aprire nuove forme d'arte anche all'interno del metaverso. Queste forme d'arte che abbiamo visto possono rendere ancora di più grazie a quello che sono le proprietà degli NFT. Quindi oggi quello di cui volevo trattare un pochino era anche oltre alle potenzialità del metaverso che abbiamo affrontato già in precedenza un paio di settimane fa. L'abbiamo fatto parlando sia di Facebook ma anche dei progetti, uno tra cui The Next Earth che prevedeva la rappresentazione di un mondo virtuale in scala 1 a 1. Quindi si aveva e si ha tuttora la possibilità di comprare i zotti di terreno corrispondenti al mondo fisico e poi su questi edificare magari in un secondo momento, rivendere gli apprezzamenti di terra, proprio come avviene nel real estate oggigiorno nella finanza tradizionale. Altro discorso è stato quello legato a Decentraland, un altro mondo virtuale in cui si ha un avatar e si possono anche qui costruire edifici, ci si può spostare tramite mezzi di locomozione virtuali, si può partecipare a meetings, si possono organizzare congressi, eventi pubblici come dei concerti, ci sono un sacco di potenzialità su questo metaverso. Così come abbiamo parlato di Desenbox, tutti questi progetti hanno una cosa in comune, il fatto che all'esplosione, al lancio della notizia del rebrand da Facebook in meta, hanno fatto un'esplosione in tutto quello che è il mondo poi di cripto, proprio a livello di prezzo, il che enfatizza ancora, mette ancora più in evidenza di quanto questo trend abbia le capacità comunque di progredire. Quando c'è così tanta attrazione vuol dire, quando il prezzo sale vuol dire che c'è tanta domanda e se c'è tanta domanda vuol dire che c'è interesse in quel progetto, sia per fini speculativi che non. Quindi più aumenta l'interesse più c'è la possibilità che intervengano istituzionali, le grandi compagnie, abbiamo citato prima Nvidia, abbiamo citato Epic Games, ne potrebbero arrivare altre, faccio il nome di Ubisoft, faccio il nome di Sony, faccio il nome di un sacco di altre compagnie che potrebbero entrare a gamba tesa nel mercato e portare ancora più novità rispetto a quelle che già vogliono essere introdotte adesso. E per partire proprio da meta, vorrei annunciare anche l'altra notizia che è quella del passaggio da Libra a Diem e della nascita del wallet Novi. Novi è un portafogli ex Calibra, Calibra che era il wallet di Libra. Ora spiegheremo bene tutto quanto. Praticamente sarà il wallet che sarà messo a disposizione di Facebook. Quindi tramite Facebook si potrà accedere a wallet Novi e si vorranno fare le transazioni come avvengono nella blockchain normale. Ovviamente Novi è un sistema che è molto meno aperto rispetto a quello che è il protocollo di Bitcoin che è permissionless. Quindi non ha bisogno di permessi per cui ha molta meno restrizione a livello di utenza e molto meno... cioè Novi è più regolato rispetto a quello che può essere magari Bitcoin perché risponde a una società. Per partire ancora prima su quello che poi è tutto il progetto Facebook dovremmo spiegare un po' che cos'è Libra. Libra è un progetto anticipatorio un po' di tutto il movimento innovativo di Zuckerberg sul mondo blockchain e sul mondo crypto e è un progetto che è nato proprio per portare la possibilità di scambi bancari e operazioni, quindi portare dei servizi finanziari anche in quelle comunità che hanno poca accessibilità rispetto al nostro paese. Perché non aspettiamoci che la Thailandia, la Nigeria, quindi tutto il settore più che altro africano abbiano le stesse possibilità bancarie rispetto... abbiano le stesse possibilità bancarie nostre. Un sacco di persone hanno magari uno smartphone ma non hanno la possibilità di... non hanno magari la sicurezza o i requisiti per accedere a un conto bancario in questi paesi. Quindi l'idea che vuole dare in primis Libra che poi ha avuto una serie di problematiche regolamentate dalla SEC così come Telegram hanno praticamente lanciato questo progetto in concomitanza, cioè più che in concomitanza in parallelo. Entrambi hanno la stessa problematica. Entrambi i progetti hanno questa ideologia di portare, di far accedere a servizi bancari. E questo come? Quindi tramite le proprie rispettive applicazioni di messaggistica. Infatti una delle limitanze più grandi è stata quella che la SEC ha visto questa operazione come una sorta di tentativo di prendere il monopolio su quelle che sono poi le accessibilità finanziarie. Libra nasce come una stablecoin che media tutte le valute fiat e immaginate avere una stablecoin. Quindi stablecoin abbiamo detto che è una moneta stabile ancorata a un sottostante che può essere in dollari, quindi per ogni dollaro creato, anzi per ogni Libra creata c'è un corrispettivo di dollari bloccati dall'azienda in questo caso. Questo significa ancorare due valute. questo significa anche stablecoin. Quindi avere una moneta stabile che qui non sia fluttuante come abbiamo visto il mercato cripto con bitcoin, ethereum e tutte le altre monete soffrono di questa volatilità derivata dal mercato che in base alle varie operazioni di trading, alle varie strategie si risentono sia in positivo che in negativo, le stablecoin invece hanno un prezzo fisso. E questo porta soprattutto al fatto che una moneta del genere, una moneta stabile, potrebbe avere molto più potere rispetto ad altre monete, cioè il proprio potere di acquisto di quella moneta potrebbe comunque influenzare le altre monete. Una mossa mal vista dalla SEC che ha imposto restrizioni. Tante restrizioni a tal punto che Libra ha dovuto cambiare nome e l'ha dovuto fare in quella che attualmente è Diem. Non so, magari per i più attivi sui social oppure sui notiziari lo avranno già sentito, avranno già sentito questa compagnia. Infatti Diem come prima cosa non sarà innanzitutto permissionless, quindi sarà permissioned, che vuol dire che comunque dovrà avere un... avrà l'obbligo di... l'obbligo di praticamente dare il permesso, in questo caso, da agire un po' da regolatore per quelli che saranno i nuovi nodi e quelli che saranno un po' le società o i servizi che vogliono offrirsi in quella che è la sua blockchain. Quindi dovrà essere autorizzata, dovrà avere maggior controllo e poi avrà tutto un discorso legato alla finanza che è quella della liquidità, ovvero dovrà garantire un tipo di liquidità nel caso gli utenti volessero vendere tutti i Diem in questione. Un altro punto importante che secondo me ha portato poi Facebook a questa grande rebrand è stata anche la spinta su questo Nuovi, il suo wallet che praticamente avrà un ruolo, secondo me giocherà un ruolo importantissimo all'interno del metaverso, perché il metaverso abbiamo visto che è un ecosistema un po' in cui si potranno svolgere le stesse attività che svolgiamo noi. Quindi un wallet proprio all'interno del metaverso che contenga una moneta creata in questo caso da Facebook sarà un qualcosa di molto interessante e vedremo come si potrebbe sviluppare il tutto quanto. Parlando poi dei vari competitors che si stanno attrezzando nella corsa al metaverso, possiamo citare, prima abbiamo citato Epic Games e lo possiamo fare anche con il suo nuovo software che punta a creare avatar virtuali. Se non erro si chiama Make Human o qualcosa di molto simile, perdonate se non sono così afferrato, ho letto la notizia così di sfuggire mentre venivo sul treno e devo dire che l'ho trovato molto interessante perché ci sarà anche la possibilità quindi l'apertura agli sviluppatori e quindi anche una serie di innovazioni proprio dal punto di vista di software che reagiranno per creare poi tutto l'ecosistema, tutte le strutture che verranno utilizzate. Un'altra notizia interessante viene dagli youtubers, quindi da influencer, Facebook tra l'altro ne ha ingaggiati molti e stanno uscendo una serie di video pubblicitari, spot quindi che riprendono noti influencer tra cui mi veniva notificato Kobe Lane o altre figure molto importanti che proprio mostrano sia gli interessi sia come funziona. Quindi tra l'altro anche CoinMarketCap ha lanciato questo video un po' provocatorio, un po' misterioso in cui si vedeva la sede fisica di CoinMarketCap, fisica virtuale ovviamente, e in questo caso c'era associato il tag meta. Quindi chissà che anche CoinMarketCap non si stia preparando per lo sbarco sul metaverso o sul meta annunciato appena adesso da Facebook. Quindi una serie di proposte molto interessanti che comunque io se volete approfondire invito sempre di riguardare la diretta che abbiamo fatto con Bruno, in cui abbiamo spiegato ancora meglio come poi questo venga sfruttato, quali sono le interessanti alternative, quali sono i vari ambiti, perché poi il metaverso non si riduce soltanto a eventi classici, ma ci saranno anche ovviamente delle qualcosa, si creeranno sempre occasioni più complesse per... di sviluppo. Detto ciò, io ricordo che questa è una rubrica bisettimanale che avrà luogo il martedì e il giovedì. Se nessuno di voi ha domande, quindi credo di essere stato abbastanza esaustivo, altrimenti fatemelo sapere, a partire comunque sempre dalle 18 avrete la possibilità di confrontarvi con me, Bruno, e quando sarà disponibile il nostro caro direttore Antonio. Vi raccomando, fateci sapere, lasciateci un gran feedback, un pollicione magari sulla diretta e un saluto a tutti, stay geek!